Oggi a Genova per fare una visita, effettuare una visita guidata alla sua mostra al Porto Antico, ma non ha rinunciato a una visita al Caravaggio. Su questo artista meraviglioso lei ha scritto due opere, un'opera in due volumi. Sì, lo confesso, ho raccontato la vita di questo gigante della storia dell'arte che è sempre stato anche uno dei miei personalissimi miti, ma lo è stato di un po' di tutti o della verità. E quindi naturalmente sono molto grato all'assessore che mi ha permesso di vedere questo quadro che in molti volumi è attribuito al Caravaggio sicuramente, poi d'altra parte c'è l'attribuzione di Longhi che è quella forse più importante. Quello che posso dire è che certamente è bellissimo intanto. È un quadro veramente molto toccante, insomma molto importante anche come collocazione nella storia.